Non soltanto a Milano ma anche ad Augusta ci sono locali che appartengono al comune. La Municipalità di Milano ha tanti locali, alcuni sono addirittura appartamenti dati in affitto. Qui invece ad Augusta abbiamo locali piccoli o medie o grandi, adesso ce lo dirà la dottoressa Coggiufa, che sono stati dati a associazioni o a complessi di associazioni e altre però associazioni premono per avere questi, così con dato d'uso, in affitto, non si capisce bene, a che titolo, per le manifestazioni culturali o per altro. Ora abbiamo tanti locali in fondo che possono essere dismessi o a breve, per esempio la Caserba dei Carabinieri o qualcuno già libero, per esempio l'ex biblioteca Ballet. Cosa pensate voi per rispondere alle esigenze di queste associazioni che almeno desiderano un locale? Su questo punto i nostri uffici hanno da tempo avviato un lavoro di ricognizione che era soprattutto mirato a dismettere edifici in affitto, perché questo comune pagava veramente fior di quattrini per utilizzare locali e di privati e su questo alcuni interventi sono stati fatti. Devo dire che l'obiettivo principale, almeno nella prima parte della nostra attività, è stato questo. Non è che mi risulti che il comune abbia chissà quanti edifici, anche perché abbiamo fatto anche dei traslochi proprio per utilizzare quegli edifici che erano nelle nostre disponibilità. È vero, so che ci sono delle richieste, anche più di una, di associazioni, di gruppi, l'università. Insomma, questo comporterà ovviamente un lavoro successivo di verifica e di ricognizione per vedere che cosa rimane da mettere a disposizione. Non c'è una mappa ancora definita e definitiva di questi locali? Allora, considerate una cosa che questo comune, negli ultimi 6-8 mesi, passa da un'emergenza all'altro. E allora, gli uffici sono sempre quelli, le persone che lavorano sono sempre quelle. Poi siamo in estante. Beh, questo lo dice lei, ma è un dato di fatto, mi pare un fatto assodato. Quindi anche questa è una cosa che contiamo di fare, perché abbiamo una serie di richieste, devo dire, alcune delle quali veramente meritevole di attenzione.